Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con l'informazione dal Festival dello Sviluppo Sostenibile. Si chiude oggi il Forum della Pubblica Amministrazione alla Nuvola di Roma, che ha dedicato la giornata di ieri proprio alla sostenibilità nell'amministrazione pubblica e consegnato il riconoscimento ai migliori 100 progetti candidati al premio PA Sostenibile per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030. Ce ne parla Gianni Dominici, direttore generale di Forum PA. Insieme agli amici dell'Asis abbiamo deciso di lanciare questo progetto, questo concorso per far emergere le migliori pratiche che vengono dai territori, dai diversi territori italiani in campo sul tema della sostenibilità. Abbiamo vinto questa sfida perché abbiamo ricevuto tantissime proposte e tantissime soluzioni, oltre 350 proposte. Oggi a Forum PA ne mettiamo in evidenza, ne abbiamo selezionate 100 con un meccanismo ovviamente di analisi delle proposte arrivate, ne abbiamo selezionato dei 100 secondo noi più rappresentative di quello che in questo momento sono le esperienze al basso. Il meccanismo del premio per noi è importante, perché il meccanismo del premio è un meccanismo che riesce a far emergere quelle che sono le innovazioni che vengono dal basso. Internet o Infernet? A volte la linea può essere davvero sottile. Il servizio di Flavia Morganti. Troppo internet fa male? Gli effetti della rete su apprendimento, relazioni e identità, questo è il tema del primo appuntamento con Consapevolmente, il ciclo di dibattiti sulle nuove frontiere dell'educazione, organizzato da Prioritaria al nuovo mercato centrale di termini a Roma. Focus dell'incontro, come aiutare i giovani ad usare in sicurezza internet e social network, tra dipendenza, cyberbullismo e notizie false. La canapa come materiale edilizio, un mondo dalle mille opportunità, come ci spiega Marcello Calao dell'ABAP, progetto base Bari. La canapa rappresenta la rivalorizzazione di un'antica tradizione culturale italiana, esposa quelli che sono i principi dello sviluppo sostenibile, rispetto dell'ambiente, la funzione sociale e quindi anche quella economica. La canapa è una pianta che è stata demonizzata all'inizio del Novecento e stiamo cercando di divulgare nuovamente la sua diffusione perché potrebbe essere appunto una risorsa per ripristinare dei valori economici, a livello proprio di impatto ambientale che addirittura un ettaro di canapa possa sequestrare qualcosa come fino a 22 tonnellate di CO2 dall'atmosfera, quindi questo ne fa uno dei cardini appunto a livello progettuale dei progetti che riguardano appunto la sostenibilità. Straordinari! Ecco come sono i protagonisti delle tre serate organizzate dalla Fondazione Guggenheim di Venezia. Caparezza, Lara Gilmore, Bebevio con storie non convenzionali legate al loro impegno sui gol dell'ONU. Dieci anni fa nasceva il connubio tra arte e aperitivo, l'Hleppi Spritz al Guggenheim. Per celebrare quest'anniversario il museo si cimenta in una nuova avventura, all'ora del tramonto storie non convenzionali nella splendida cornice del Palazzo Venier dei Leoni. Prossimo appuntamento lunedì con Lara Gilmore, moglie dello chef Bottura e attiva su progetti contro lo spreco di cibo. E per concludere ecco alcuni appuntamenti per venerdì 25 maggio. A Milano l'evento nazionale sul Gol 5, diritti delle donne, diritti umani. A Bologna l'evento nazionale sul Gol 11, le agende urbane per lo sviluppo sostenibile. A Cosenza è in corso fino a sabato il Festival dell'Ambiente. Ad Assisi fino a domenica al Via Alberi di Maggio, la Kermes dedicata al mondo degli alberi. Vi ringraziamo per essere stati con noi e rinnoviamo l'appuntamento domani. Arrivederci e buon Festival a tutti!